Wey! Bella a tutti ragazzi! Io sono Xyuder e oggi sono qui insieme a voi in questo nuovo video di Fortnite per sostenere un progetto, una missione di LG. Si chiama Habitat for Humanity Corea ed è una cosa stupenda. Tra poco entreremo in una mappa in creativa. Vi invito insieme a me a fare uno screenshot della tabella in prelobby e a condividerlo sui vostri social perché più giocherete questa mappa e più LG farà delle donazioni alle famiglie più bisognose del Vietnam e della Corea. È un progetto che ho sposato assolutamente a braccia aperte e non vedo l'ora di vederlo insieme a voi. Con me ci sono anche tre ragazzi che hanno deciso di stare dalla mia parte e che adesso andremo a vedere. Spostiamoci di là! Ed eccoci qua ragazzi, questa è la prelobby. Fate un bello screen vicino al poster e condividetelo insieme a me sulla pagina Instagram. Gli hashtag li vedete? Just enjoy playing LG. Heal the home on Fortnite. LG will donate to Habitat Korea on you. Behold. Sotto ci sono ragazzi i tag. Fatelo e finalmente siamo nella mappa. Ciao ragazzi, mi sentite? Sentiamo, sentiamo. Ma non mi vedo, dove siete? Come mi sembra questa? Anche io sono in una casa. Vorrei capire un attimo. E guarda un po' qui. Questa è già ragazzi il primo prodotto di LG. Vi ricordo che LG oltre a fare questo progetto umanitario sta anche proponendo la sua nuova linea di prodotti impatto zero. Quindi basso consumo e poca energia consumata. Questa è la wash tower. Praticamente è una lavatrice a due piani. Possiamo vedere e che ovviamente potete trovare nel catalogo. Rainvented how do you laundry with LG washer dryer combos latest innovate features. Che cosa ho detto? Bella domanda. Bella domanda. Ok, non lo sanno. Praticamente ragazzi questa è una combo probabilmente di lavatrice e asciugatrice che potete andare a trovare ovviamente sul sito di LG. Devo vedere ancora che cosa si può trovare. Nella home c'è il purificatore d'aria? Ma veramente? Dov'è? Non ce l'ha lei? Eccolo qui LG air power fear. Questo qui è un purificatore che fa un giro a 360 gradi clean air shield. Purify the air around you with multi filtration e clean booster. Quindi è un purificatore che si appoggia appunto per terra. Come vedete guardate che la grandezza è praticamente rapportata in scala a quello che potrebbe essere un comodino. E con questo purificatore non avrete ovviamente più problemi. Avrete sempre aria fresca, pura e riciclata in casa vostra, nei vostri ambienti. Sempre ad un consumo super basso. Che cosa abbiamo ancora di bello da vedere? Qui c'è LG vacuum cleaner. Dove dove dove? Ti seguo ti seguo. Ah questo è nuovo. Allora LG vacuum cleaner. Questo è un aspirapolvere. Allora questo ragazzi è un aspirapolvere sempre della linea Kilti che ha una durata di 120 minuti con una ricarica che poi come vedete si può riappoggiare al muro per poter non avere l'impaccio dei fili e che ha una performance incredibile per la pulizia delle vostre superfici domestiche. LG vacuum cleaner. Comunque poi se vuole vedere anche le armi venga qui. Come vedete intanto ragazzi nei piani di sopra di ogni casa troverete la vending machine con tutte le cose ma io voglio vedere se troviamo altri prodotti. Ho già sbloccato qualche armi. Io non ho neanche i gold stavo cercando di vedere ancora cosa ci fosse in giro perché vi ricordo che la linea LG è composta da un sacco di nuovi elettrodomestici. Ok ho sbloccato il purificatore. Deve continuare qui a prendere il gold. Come li prendi 100 gold? Eh ogni volta mi sembra che potenzia aumenta il ratio di generazione d'oro. Ok no vabbè ragazzi ma mi sta ma sto diventando ricco io continuo a continuo a darmi gold come se non ci fosse un domani. Ed ecco uno dei prodotti ragazzi di punta di questa linea LG che è il refrigerator quindi come avete già capito ovviamente il frigorifero. Unlock to get sloop juice for cooling questo invece è dedicato alla mappa quindi sbloccando il refrigerator sbloccherete anche l'item. Questo refrigeratore ha un consumo ovviamente bassissimo e ha un sistema di raffreddamento che si chiama linear cooling. Questo oltre a tenere ovviamente al meglio i vostri prodotti alla temperatura desiderata evita al 100% anche la dispersione di calore. Non troverete mai nessun problema come vedete da due scompartimenti e ha anche la possibilità di avere una macchina del ghiaccio appunto al suo interno. Quindi refrigerator è molto 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 bello sempre della linea LG Hilti. Vediamo se ci sono altri prodotti. Il nuovo microonde ragazzi l'LG Microwave 1200 watt di potenza con la nuova tecnologia Neo Chef. Una funzione che vi permetterà di avere le vostre pietanze sempre cotte al punto giusto grazie all'intelligenza di questo elettrodomestico che farà assolutamente al caso vostro. Qui ragazzi abbiamo altri tre prodotti come ci suggerisce il nostro Brutal. Vuoi dire tu Brutal che cos'è la lavastoviglie? La lavastoviglie sblocca il pesce vendetta nella mappa di Fortnite e con questo potremmo dire addio ai batteri e avere piatti puliti. Perfetto quindi anche questo ragazzi un elettrodomestico fondamentale e la pulizia e l'igiene soprattutto delle nostre stoviglie è fondamentale per uno stile di vita sano. Con la dishwasher quindi con la lavastoviglie di LG non avremmo più niente da preoccuparci. Ricky abbiamo anche il forno vuoi dirci che cosa quale caratteristica ha? Questo forno di LG ci fa sbloccare il flopper è una caratteristica di avere dei piatti con delle deliziose pietanze calde. Queste verranno cotte all'interno del forno. Anche perché ovviamente se le cuoci dentro la lavastoviglie fai fatica nel senso. Beh certo. Esatto ragazzi come ha detto Ricky LG Oven il forno come vedete sopra con ben 5 piastre induzione quindi un forno grande un forno adatto anche alle famiglie più numerose. Ha la possibilità di avere un sacco di programmazioni con la modalità LG Pro Bake Convention. Quindi la possibilità ovviamente di selezionare il tipo di prodotto che vogliamo cuocere per avere le nostre pietanze cotte al punto giusto e sempre gustose e ottime. Abbiamo ancora come ci stavano facendo vedere prima il nuovo frigorifero perché non ce n'è solo uno ma ce n'è un altro. Questo invece è un frigorifero già più imponente rispetto a quello che abbiamo visto prima. Allora questo frigorifero ragazzi invece ha la funzione InstaView che cosa vuol dire che il consumo e la dispersione dell'aria fredda che viene utilizzata ovviamente per mantenere alla temperatura ideale fresca i nostri cibi è ridotta al minimo. Quindi dispersione praticamente assente, frigorifero imponente, meraviglioso da vedere e sicuramente da andare a dargli un'occhiata sul catalogo ufficiale nel sito di LG. Bello, bello, bello. Ma ragazzi quindi? Allora è qui al centro, si è sbloccata la mappa. Più tempo stiamo qui al centro probabilmente più accumuliamo punti per la mappa LG. Quindi più tempo noi stiamo qua dentro più LG donerà per la causa. Ah bella questa cosa, è vero perché Brutal ci ha detto una cosa importante che è meglio ripetere un'altra volta. Insieme al catalogo di prodotti che abbiamo appena visto di LG c'è una missione molto più importante. Qui abbiamo parlato che è una missione umanitaria che LG ha voluto sostenere e per la quale io sono assolutamente a favore ma credo che anche i ragazzi che giocano con me siano dalla stessa parte. Più giocherete ragazzi a questa mappa in creativa, il codice comunque lo troverete anche sotto nei commenti e nella descrizione di questo video, più LG potrà fare delle donazioni, una unica donazione grande, alle famiglie bisognose del Vietnam e della Corea. Sicuramente una cosa meravigliosa, bellissima. Sono onorato di fare parte di questo progetto umanitario e grazie, grazie LG per aver deciso di aiutare chi magari è meno fortunato di noi. Grazie anche a Fortnite ovviamente per aver dato la possibilità di creare questa mappa. Quindi adesso ci spariamo? Adesso ci spariamo? Non lo so perché... Guardi che cosa ho in mano. No, questo non va bene nel senso, lei è un RPG, scappo. Anche perché ragazzi come avete visto una volta che sono passati i dieci minuti potrete sbloccare armi. Mi sono vendicato. Venga ci sono altri prodotti. Arrivo. Cosa abbiamo ancora? La cabina telefonica di LG. Ah no aspetta questa... Pensavo che fosse la cabina telefonica. È vero ragazzi uno dei prodotti sicuramente più utilizzati nel periodo estivo quando il caldo ovviamente comincia a farsi sentire è l'LG Air Conditioner. Nel quale speriamo che non gli venga sparato sopra un colpo di RPG da tavola. Questo condizionatore invece ha la particolarità di mettere aria fredda con una velocità importantissima. Quindi un condizionatore dai bassi consumi con un doppio inverter che rilascia aria fresca per tutta la casa e quindi vi farà stare assolutamente a vostro agio anche nei periodi più caldi. Allora io credo ragazzi che questo armadio non è solamente un armadio come quelli che conosciamo noi che ovviamente tengono dentro i vestiti ma l'LG Styler ha la particolarità di dare una rinfrescata ai tuoi abiti. LG ragazzi Home Solution for Better People. Quindi tanti tanti prodotti che miglioreranno la nostra condizione, miglioreranno la nostra casa, le nostre abitudini con piccole cose che magari non eravamo abituati ad avere prima che esistessero. Ragazzi se volete anche divertirvi no, oltre ovviamente alla cosa più importante che è quella di diffondere queste informazioni di LG in tutto il mondo, comunque se volete anche divertirvi, qui sbloccando tutta la casa potrete sbloccare tutte queste belle armi, ad esempio qui potrete sbloccare delle armi comuni, poi delle armi di rarità verdi, delle armi blu, epiche e leggendari. E poi con i gold avanzanti potete prendere dei materiali oppure delle emisioni, così per sparacchiare di potenza. Che bello. O per i vostri amici all'interno della piazza, eccoci qua. Scusi le sparacchi un pochettino, oh, oh, cioè già non va bene una cosa del genere, porca miseria. Sto che avete sbloccato e il timer è scaduto, vedete qui c'è un timer che dura 10 minuti, si parte con il combattimento nell'arena, divertentissimo anche il fatto di poter appunto giocare a Fortnite in creativa come conosciamo tutti e allora, 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 io non posso blindare, porca miseria, allora.